Ciao. Oh, ciao. Avvocato poet? Sì. Poet Lydia. Sì, sì, arrivo. Eccomi. Lei è l'avvocata poet? Sì. Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo. Radiata dall'albo degli avvocati perché è femmina. Anche un assassino ha diritto a un vero difensore. Posso vincere. Non vincerai mai. Non essere pessimista, cazzo. L'abbiamo, Susy. Lydia, la figlia di quello lì. La sorella pazza. Ah. Ognuno di noi lascia delle tracce. Uniche. Che fa? Si chiamano impronte digitali. Stiamo perdendo tempo. Allora il caso è chiuso. Che sia un assassino ha ancora tutto da vedere. Ho trovato un altro possibile colpevole. Questa storia va oltre ogni immaginazione. Non sai stare al tuo posto. Lei non mi conosce affatto. Però nemmeno lei mi conosce. Tu devi smetterla di fare tutto di testa e tua. Il tuo amico lo sa che ti stai innamorando di un altro. Cosa ti fa pensare di essere diversa? Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso. Tutti i giorni. Ma non sono ancora riusciti a cambiarmi. Take your home with me! Non hai mai sentito il giudizio del 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 giudizio del